Non solo 25 novembre per dire no alla violenza sulle donne, il comune di Pescara con l'associazione Ananche mette in campo iniziative per le donne maltrattate tutto l'anno, ma anche per il recupero degli uomini autori di violenza. C'è un hashtag 365 giorni no alla violenza donne. L'assessore Adelchi sul Pizio nel corso di una conferenza stampa in comune ha ribadito come con l'associazione Ananche si attueranno iniziative per tutelare le donne 365 giorni l'anno. Inoltre con l'apertura del CAM si pone l'attenzione anche al recupero degli uomini maltrattanti che si rivolgono al centro. L'associazione Ananche intanto ha reso noti i dati dell'area pescarese che però riflettono l'andamento regionale. Nel periodo Covid c'è stato un grande aumento delle richieste di aiuto al centro da parte delle donne. L'età è varia, ci sono minorenni che si presentano con i genitori, anche se la maggior parte di esse è tra i 40 e i 50 anni. Per il 40% queste donne non lavorano e accanto alla violenza fisica e psicologica si aggiunge quella economica. Il presidente Bozza, poi precisato come il tribunale, aveva già a sua volta aperto uno sportello. Sul Pizio evidenzia proprio come per contrastare la violenza sulle donne occorre una sinergia tra le varie parti, una rete integrata partendo dalle scuole, tanto che anche all'alberghiero De Cecco è stato aperto uno sportello antiviolenza. Ci sarà una serie di iniziative, grazie a Comunian Ananche, che culminerà il 4 dicembre con l'evento Io non ci sto più, una puntata speciale di Interno 8 sulla nostra emittente dall'auditorio Mucerulli di Pescara. L'assessore comunale di Pescara, Delchi sul Pizio. È un hashtag che ho voluto con forza, che noi del Comune abbiamo voluto con forza, perché la violenza sulle donne non si combatte soltanto facendo questi eventi come oggi importantissimi, perché anche l'informazione è fondamentale, ma attivandosi giorno per giorno per appunto 365 giorni all'anno con iniziative per contrastare questo fenomeno che fra i più brutti ormai c'è anche un senso di repulsione, questo fenomeno da parte di tutti quanti. E quindi oggi noi annunciamo questo progetto, 365 giorni alla violenza sulle donne, con il quale rappresentiamo tutte queste attività che noi andremo a fare come Comune di Pescara, con il nostro braccio operativo che è rappresentato dal centro antiviolenza di Ananche. Noi quest'anno abbiamo anche lanciato il progetto del CAM, con il quale spostiamo l'attenzione, non soltanto poniamo la nostra attenzione sulla donna vittima di violenza, ma in questo contesto anche nei confronti dell'uomo maltrattante. E quindi con questo progetto che vediamo che posta anche l'attenzione anche da parte degli altri comuni a livello nazionale, perché ce ne sono pochissimi in Italia di questi centri, andiamo a capire perché l'uomo maltratta, qual è la situazione, soprattutto iniziamo anche lì un progetto, un progetto di recupero. Ci sta dando anche tante soddisfazioni perché stiamo anche riscontrando anche dei fenomeni per i quali anche vanno insieme marito e moglie, c'è anche un senso di amore, perché a volte è anche un fenomeno molto complicato, dove vediamo, assistiamo ad esempio marito e moglie che vanno all'interno di questo percorso per cercare di recuperare in questo caso una figura maschile che viene vista troppo anche violenta in quel contesto. Quindi sono tante le iniziative, abbiamo il progetto Sfera, poi naturalmente abbiamo il centro antiviolenza Ananche, che è la nostra eccellenza, con il quale siamo veramente 365 giorni a fianco delle donne qui. Sì, immaginiamo che noi stiamo facendo anche su quello dei protocolli di intesa anche con l'istituzione, con le forze di polizia, con il tribunale, immaginiamo ad esempio una pena alternativa potrebbe, come stiamo anche facendo in alcuni contesti, potrebbe essere quello proprio di svolgere all'interno del CAM un percorso, un percorso di inclusione, un percorso in cui l'uomo in quel caso prende anche consapevolezza del proprio errore, di recupero, la parola d'atto è praticamente recupero. In questo dobbiamo dire che noi ci siamo resi conto che è un percorso molto complicato, tant'è che abbiamo chiesto anche aiuto a un CAM nazionale, il primo in Italia, in Italia sono 5 e 6, sono pochissimi, con il quale hanno formato il nostro personale, quindi ci sono stati vicini in questi primi mesi di partenza, in maniera tale che stiamo anche creando delle professionalità qui a Pescara che potranno, nel momento in cui avranno acquisito tutte le loro cognizioni, le loro anche preparazioni su questo tema, andare da sole e quindi procedere con questo importante progetto. Dati e numeri illustrati dall'Associazione Ananche che con il Comune mette a punto una serie di iniziative? Sì, poi questi dati ogni anno, sono anche dei dati che da una parte metto paura perché sono anche in crescendo, infatti abbiamo visto che è anche un dato che aumenta. Gli uffici mi dicono che con il Covid, ahimè, il fenomeno dell'avvenenza sulle donne si è anche aumentato, però anche lì bisogna capire una cosa, è aumentato il fenomeno o è aumentata la consapevolezza delle donne che denunciano? Il fatto certo, l'unico dato certo è che questi dati sono allarmanti, quindi sia presi da un punto che dall'altro sono allarmanti e questo ci sprona sempre di più ad intervenire, a porre in essere anche continuamente ulteriori iniziative affinché questo fenomeno magari fra qualche anno diventi, rimanca soltanto un ricordo, perché c'è la consapevolezza da parte di tutti, ma non soltanto del Comune, lo vediamo, abbiamo visto anche oggi, anche nel corso delle tante iniziative, c'è tutto lo Stato, c'è lo Stato e posso assicurare ai cittadini che lo Stato in questo caso, partendo sia dalle istituzioni, quindi il Comune, la Regione, la stessa provincia, ma anche per esempio le scuole, le forze di polizia, il Tribunale, ricordiamo anche la Procura che ha inaugurato durante quest'anno con i procuratori che sono molto attenti a questa attenzione, lo Stato con il Codice Rosso, tutti insieme, per dire no a violenza sulle donne. Assessore Sulpizio, mi piace dire che il Comune, la politica scende tra i cittadini, le politiche sociali a favore e a servizio dei cittadini, la politica che acquista il suo vero significato etimologico. Sì, sì, ma ti dico sia la politica che lo Stato, c'è una parte, c'è la politica che c'è una consapevolezza che non si può fare quello che si è fatto per tanti anni dove magari si pitturava una panchina oppure ci mettevamo qualche scarpetta oppure illuminavamo il campanile o il ponte. Iniziative importanti perché bisogna anche mandare un messaggio, ma a fianco ai messaggi occorrono poi misure concrete. Misure concrete significa stare 365 giorni e non ricordarsi questo fenomeno soltanto in queste giornate, ma combatterlo giorno per giorno con iniziative, stando a fianco delle donne. Immaginiamo anche come il Centro Ananche, a volte bisogna intervenire immediatamente per far sì che la donna che è vittima di violenza abbia un rifugio, un posto lontano da casa dove possa sentirsi tranquilla e in questo caso attivarsi con le forze di polizia, attivarsi col tribunale se ci sono anche dei minorenni. Sono tante le iniziative, però quello che voglio dire ai cittadini, su questo li voglio tranquillizzare, lo Stato su questa tematica, lo Stato in tutte le sue articolazioni c'è. Noi abbiamo iniziato anche una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, che poi sono il nostro futuro, dove noi mandiamo anche sia tutti gli iscritti al Centro Ananche, sia da questo punto di vista, anche quest'anno del CAM, a rappresentare quelle che sono le loro esperienze, proprio per far capire anche ai ragazzini, agli alunni quanto è brutto questo fenomeno. La Presidente dell'Associazione Ananche, Doriana Gagliardone. Dall'esame dei dati post-covid possiamo dire che il trend è increscendo, nel senso che rispetto all'anno scorso comunque abbiamo avuto un aumento di richieste, un aumento di donne che hanno avviato il percorso, quindi parliamo di un 4% in più. Quindi in qualche maniera l'effetto pandemia lo abbiamo avuto noi in maniera diversa rispetto all'anno scorso, che erano molte donne che chiamavano per la prima volta, abbiamo avuto un'impennata proprio di richieste, e poi un appiattimento, il trend è stato un po' altanelante in relazione quindi all'apertura e chiusura. Adesso quest'anno stiamo vivendo un po' una tranquillità relativa, quindi le donne hanno ripreso a chiamare normalmente, a venire al centro e abbiamo quindi registrato questo momento effettivamente dei percorsi, che è cosa fondamentale. Altro dato che è emerso particolarmente dall'ultimo anno in poi, è che effettivamente noi abbiamo aiutato molte più donne in emergenza, nell'arco dell'ultimo anno abbiamo aiutato 26 donne, quindi immaginate ognuna con i minori, almeno a strettanti minori, in allontanamenti in emergenza, quindi situazioni da tamponare subito nell'immediato di poche ore. Questo è qualcosa di molto importante perché fa capire effettivamente che le donne chiedono aiuto, quello di cui ha bisogno un centro di violenza, abbiamo bisogno di noi, è una rete alle spalle che ci supporta in questi interventi anche in emergenza perché bisogna trovare subito una collocazione dove devono stare, devono magari portare il cibo, i vestiti, insomma noi ci stiamo attrezzando, però è uno spaccato proprio che è emerso molto durante post-covid e durante il covid. Per il resto, bene o male, il fenomeno è molto in linea con quello degli altri centri abruzzesi, anche comunque con il nazionale, quindi le donne principalmente sono italiane. Purtroppo noi abbiamo un buon 40% che non lavora, magari non ha mai lavorato, quindi l'inserimento lavorativo, l'autonomia è fondamentale perché questo è un nodo proprio cruciale per sganciarsi dalla violenza. Le violenze subite principalmente sono sempre la psicologica, la fisica, comunque anche questa economica che sta aumentando sempre di più, dovuta anche alla crisi economica che viviamo tutti quanti aziendale. In questo momento, altro dato interessante è che noi al centro stanno arrivando rispetto agli altri dati, magari del nazionale, così molte più donne che hanno già denunciato, quindi significa che comunque queste donne stanno acquistando più fiducia nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine in questo caso e anche gli effetti del codice rosso, l'introduzione del codice rosso ha fatto sì che la denuncia venga subito raccolta e poi segue l'iter giudiziario. Quindi il nostro aiuto è poi, una volta che la donna arriva al centro, far capire cosa accade dopo la denuncia, perché loro non sono a conoscenza di cosa accade ed è effettivamente una cosa da chiarire perché loro devono essere portati a conoscenza del percorso giudiziario in cui vanno incontro, che è un procedimento penale, quindi un coinvolgimento personale molto molto intenso. Quest'anno con l'assessore abbiamo rafforzato quella che era la nostra campagna di sensibilizzazione, abbiamo questo Astag che in qualche maniera spenderemo tutto l'anno. Il 25 novembre rappresenta un momento proprio per la cittadinanza, per portare alla luce e alla ribalta questo problema, che non è mai abbastanza in un'ottica di prevenzione. Abbiamo una serie di iniziative, uno spettacolo teatrale il 27 novembre allo Spazio Matta, che è l'altra opzione. Abbiamo una presentazione di un libro di una giovanissima scrittrice che ha subito uno stupro, Valentina Mira. E infine concludiamo questa settimana con il 4 dicembre una serata speciale curata da Rete 8, Interno 8, con ospite d'onore Neri Marco Re. Poi saremo comunque sui pullman, abbiamo dei manifesti, insomma abbiamo seguito varie linee. Il comune sarà presente anche con il solito il ponte flagliano illuminato e lo striscione. Quindi abbiamo cercato in qualche maniera di coinvolgere un po' tutti la cittadinanza, le varie fasce d'età e soprattutto essere visibili. Allora noi ci siamo, diciamo, durante il Covid ci siamo anche attrezzate con una chat. Abbiamo un sito istituzionale www.centrananche.it con una chat attiva anonima che non memorizza, è importantissimo. Quindi le donne una volta che entrano all'uscita non rimane traccia di questo eccesso. Abbiamo, siamo agganciate al 1522 che è plurilingue H24, abbiamo una numerazione che è lo 085 43 15 294 agganciata a un cellulare anche di repribilità fino alle 20. Cinzia Carcaesio, responsabile centro itinere CAM. Il centro itinere CAM è attivo da agosto. Abbiamo già 5 uomini più 2 in arrivo. Abbiamo già anche avuto 35 colloqui con questi uomini. Naturalmente c'è un percorso, c'è un inter comunque da seguire. Inizialmente ci sono dei colloqui comunque individuali, diciamo 5-6 colloqui individuali con l'uomo maltrattante. Subito dopo si inizia un percorso di gruppo. Quindi gli uomini che iniziano un percorso che poi durerà questo percorso circa un anno. Allora, noi la violenza la vediamo come un problema socioculturale. Quindi non c'è proprio un identikit. Nel senso che generalmente gli uomini maltrattanti sono figli comunque di una cultura patriarcale, possiamo dire. Quindi il nostro compito poi è proprio far riflettere questi uomini sull'evoluzione dei modelli comunque maschili e aiutarli a trovare delle soluzioni comunque alla violenza. Allora, c'è da dire una cosa. Che l'uomo che si presenta ad un CAM è un uomo consapevole e che deve essere cosciente che è parte del problema. Ma soprattutto deve essere cosciente che è parte attiva della soluzione comunque del problema. Cioè il cambiamento lo deve volere comunque l'uomo. E noi possiamo essere anche contattate dalla partner, magari perché non si sente più al sicuro. Però il cambiamento comunque deve avvenire nell'uomo. Innanzitutto è attivo un centralino dal martedì al venerdì. Il CAM, il centro itinere CAM, è situato a Pescara, in via Luigi Polacchi. È aperta una pagina Facebook. Abbiamo un nostro sito web. E gli invii appunto possono essere spontanei. Quindi l'uomo che si presenta spontaneamente al nostro centro itinere, anche se sono più rari. La partner può contattarci, quindi inviarci comunque l'uomo maltrattante. Altrimenti gli uomini possono essere inviati dal tribunale ordinario, in base al codice rosso. oppure dal questore, dagli avvocati, dal web, dai servizi sociali per esempio.